Amici di GranMichele.eu, torna il calcio, torna il calcio nella stagione 2024-2025 con la SD Esa Sport GranMichele. Domenica 3 novembre inizia il campionato di terza categoria che quest'anno vedrà i ragazzi di Mister Tavolino giocare nel Girone Catanese per sfidarsi contro alle squadre del Girone Catanese e molte delle squadre vicino anche alla nostra realtà cittadina. Vi do subito lettura del calendario appena uscito poche ore fa che vedrà così per tutta la stagione 2024-2025 i ragazzi sfidarsi. Iniziamo immediatamente domenica 3 novembre presso il comunale di GranMichele di cui tra qualche secondo andremo a vedere un ulteriore passaggio che non ci siamo dimenticati. Vedrà i ragazzi dell'Esa Sport sfidare immediatamente in un derby del comprensorio una delle due squadre della città di Lico di Obea, proprio nello specifico il Real e Obea. Si continua domenica 10 novembre, scusate, sempre fuori casa questa volta, sempre ospiti della seconda realtà del Lico di Obea, il Football Club Academy Sporting e Obea giocare in questo caso presso il comunale di Vizzini in quanto una delle società del Lico di Obea gioca le proprie partite in casa presso il comunale di Vizzini. Continuiamo, il 17 novembre si ritorna tra le mura del campo del comunale di GranMichele sfidarsi contro una delle squadre del Catanese, proprio la Puntese. Sarà questo il calendario così come avete potuto già leggere all'interno del nostro sito, il lungo calendario che vedranno la bellezza di 22 giornate di calcio in questa stagione. Vi do lettura immediatamente invece delle squadre che faranno parte del girone. Nel girone di terza categoria abbiamo l'Atletico Radusa, il Calcio Militello, il Cus Catania, l'Esa Sport, la Puntese, la Fenice Belpassese, il Football Club Academy Sporting e Obea, il Football Club Catanè, il Real e Obea, la Scordiense e i Giovani Leoni. Saranno queste le squadre che vedranno sfidarsi durante questa stagione per ambire alle posizioni che permetteranno l'accesso in seconda categoria. Gran Michele Puntese ancora una volta quest'anno sarà vicino alla squadra, all'ESA Sport per seguire tutta la stagione calcistica con le partite in casa, sicuramente fuori casa in base alle condizioni dei campi che possiamo trovare, anche la disponibilità dei campi aperti, campi chiusi, le tribune se sono accessibili e se ci sono le condizioni per poter effettuare le riprese. Seguiremo l'ESA Sport con riprese, partite integrali, approfondimenti, highlights, intervisti ai protagonisti di questo campionato. Tutti questi appuntamenti li potrete poi rivedere da quest'anno il martedì alle ore 14 sul nostro sito tutti gli approfondimenti sulla giornata calcistica appena conclusa. Questo è un po' in linea di massima il programma di quest'anno della SDSA Sport e come GranMichele Puntese ancora una volta offrirà questo servizio per rendere voi partecipi di questa esperienza calcistica. Esperienza calcistica che alla data di oggi ancora non sappiamo se i tanti tifosi potranno assistere di presenza presso gli spalti del comunale di GranMichele. Prima di approfondire questo discorso vi invito a guardare uno spezzone di un'intervista che abbiamo registrato circa un mese. Abbiamo fatto diversi atti, l'altro giorno ti mandavi un messaggio e ti disse non sei attento all'albopretorio, se tu vedi tutte le determini che in questi ultimi mesi per avere l'autorizzazione al pubblico spettacolo che avremo prima dell'inizio del campionato e tutte le determini che i nostri dirigenti del ringrazio dell'ufficio tecnico hanno fatto per far sì che ci saranno gli spettatori, ci sarà il pubblico al campo sportivo, sono diversi. A breve avremo, è una questione di giorni o di ore, avremo da parte dei vicini del fuoco il nulla osto. Assessore, con te concludo, tanto avremo modo di rivederci a inizio campionato, nella prima giornata tra il pubblico? Io penso che noi ci dobbiamo, appena abbiamo il tutto definitivo ci dobbiamo rivedere per Tagliamo il nastro, va bene? No, 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 per spiegare alla città quello che è successo, quello che abbiamo fatto e quello che è stato realizzato. Le promesse sono belle, le promesse si fanno sui palchi, in campagna elettorale, le promesse che si fanno davanti alle telecamere vanno mantenute. Abbiamo una data, il 3 novembre, prima giornata di campionato, significa che il 3 novembre mattina l'assessore allo sport del comune di Gran Michele, Pietro Palermo, così come dice in questa intervista, aprirà i cancelli ai tifosi? Dalle voci che girano nei corridoi, anzi nei viali del campo sportivo, chiuso gli spalti, non ci sono buone notizie, ma quello che ci preoccupa di più è il silenzio. Il silenzio da parte dell'assessore, che alla data attuale, a pochi giorni dall'inizio del campionato, non ha comunicato se realmente avverrà l'apertura degli spalti per i tifosi che nella prima giornata vogliono eseguire ancora una volta la propria squadra. Non sappiamo se la società si è messa in contatto con l'assessore per avere notizie, ma da quello che sappiamo questo non potrà avvenire nella prima giornata. attendiamo conferma. Sappiamo il problema, che cos'è? Ma come è andata a finire? Sappiamo invece le conseguenze, sappiamo come la società sta trovando tantissimi problemi per l'accesso al pubblico, per i contatti con gli sponsor. Assessore Palermo, chiediamo a lei. Come è andata a finire? Non abbiamo avuto più notizie da lei. Si aprono gli spalti e non si aprono. L'intervista poi successiva fatta col sindaco in cui lo invitiamo la prima giornata di campionato a sedersi tra gli spalti tra i tanti tifosi, nella prima giornata come l'anno scorso, quella contro il licoddia. Ci sarà qualcuno? Come sono andate a finire tutte le autorizzazioni, le procedure che stava portando avanti? Assessore, silenzio. Questa città vive di silenzio. Chiediamo anche all'amministrazione, alla persona del primo cittadino, signor sindaco, puoi chiedere all'assessore come si è andata a finire le promesse che sono state fatte davanti alle nostre telecamere rivolte ai tanti cittadini in cui si dice che la prima giornata lui apre i cancelli attraverso anche le nostre telecamere. Noi la sera prima la mattina ci andiamo e apriamo niente perché è chiuso. Tranne che l'assessore ancora di qua giorno 3 mettiamo a disposizione le nostre telecamere per darci una risposta. Perché ancora una volta, lo ripeto, ce ne assumiamo le responsabilità, le promesse si fanno in campagna elettorale sui palchi. Quando si fanno davanti le telecamere si ci mette la faccia e con la stessa faccia si deve avere il coraggio di dire o non dire la reale situazione dei fatti a oggi. E se tanti cittadini di Gran Michele potranno, tifosi, potranno assistere già alla prima giornata e poi alla terza giornata, assistere alla propria, supportare i propri colori che quest'anno sono tornati giallorossi. Quindi torneremo a tifare i nostri colori storici giallorossi. Assessore Palermo, noi l'aspettiamo, non dico il 3 mattina e domenica, ma un cenno, una parola, aspettiamo lei che ci dica come è andata a finire. Se no questo video lo possiamo mandare in continuazione. Prima che inizia la partita, a metà primo tempo e a fine partita, così come uno spot pubblicitario. Spot pubblicitario che mi permetta si fanno in campagna elettorale, no quando si amministratori. Amici di GranMichele.io, questo è uno spazio che abbiamo voluto dedicarvi per informarvi quale sarà il programma, il calendario dell'SD Esasport GranMichele. Appuntamento così domenica con le nostre dirette pre-partita, metà partita e fine partita e gli approfondimenti completi con i video integrali, gli highlights, gli approfondimenti con le interviste, con i protagonisti delle partite, tutti i martedì successivi alla giornata di campionato. Per questo è tutto, buona stagione calcistica.